Ancora una bella storia da poter raccontare, quella del signor Gorrasi Gennaro originario di Roccadaspide. Positivo al Covid nella giornata del 6 marzo, è stato trasferito d'urgenza dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania nel reparto di terapia subintensiva agropolese a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Un quadro clinico preoccupante abbastanza grave che lo ha tenuto con il fiato sospeso per ben 25 giorni. Fortunatamente il signor Gennaro è riuscito a guarire e ha riabbracciato i suoi affetti più cari. Un ringraziamento Gennaro lo ha voluto fare a tutto il personale medico ed infermieristico del reparto Covid ospital agropolese per la cura, la professionalità e la gentilezza che ha ricevuto in questi lunghi 25 giorni. I dirigenti dell'ASL di Salerno dovrebbero riservare più attenzione a questa struttura ospedaliera perché lo merita, ha detto Gennaro. Questo è il commento dell'ingegnere Gennaro Gorrasi al momento delle sue dimissioni dal reparto speciale. Ingegnere Gorrasi di Rocca d'Aspide, oggi torna a casa. È governato da noi in subintensiva dal giorno 6 marzo. Come si sente ingegnere? Io sto bene, tranquillo. Mi devo ringraziare di tutto per l'ospedale in perfetta condizione, pulizia, gentilezza, di tutto. Purtroppo devo dire che non siete sopportati dall'esterno purtroppo. Ci vorremmo un po' d'aiuto dall'esterno. Secondo me i dirigenti in alto sono un po' comuni paraoci.